Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7, questa sera con mezz'ora d'anticipo rispetto al tradizionale orario delle 19. La giornata politica è stata dominata dalla doppia votazione alla Camera e al Senato sullo scostamento di bilancio. Voi sapete che ogni volta che il governo propone uno sforamento occorre, in base alla legislazione vigente, una autorizzazione da parte di entrambi i rami del Parlamento con maggioranza assoluta. Una cosa oggettiva sono i numeri che sono venuti fuori. Alla fine la risoluzione di maggioranza che chiede lo scostamento ha avuto ben più che una maggioranza assoluta. Siamo alle soglia dell'unanimità, 552 sì, 6 astenuti e nessun contrario alla Camera, 278 sì, 4 astenuti e 4 contrari al Senato. Come mai questi numeri? Perché ai voti della maggioranza si sono aggiunti compattamente quelli dell'opposizione di Forza Italia, Fratelli Italia e Lega. Naturalmente dopo la votazione sono suonati i violini del centrosinistra nei confronti di Forza Italia, Dario Franceschini che ha detto chapeau a Berlusconi la cui disponibilità ha fatto cambiare posizione al resto del centrodestra, violini da parte del senatore del Partito Democratico Mercucci. Apparentemente dichiarazioni unitarie anche da parte di tutto il centrodestra che ha tenuto una conferenza congiunta a fine giornata con Salvini Meloni italiani che hanno rivendicato dal loro punto di vista il fatto che il governo sia venuto incontro alle richieste del centrodestra per ogni partita IVA. Quindi diciamo da questo punto di vista, dal punto di vista delle dichiarazioni ufficiali, il centrodestra segna un punto, dice il governo in termini di metodo ci ha dovuto ascoltare, in termini di merito ha accolto alcune delle nostre proposte e quindi noi segniamo un punto. Ma è davvero così al di là diciamo di ciò che è apparso sulla scena? Il retroscena corrisponde a questa fotografia? Forse non è così, domani sulla verità approfondiremo questo, non è così sul versante della maggioranza dove le contraddizioni restano, le tensioni tra Conte e il PD, i Cinque Stelle e il PD restano a fior di pelle e il nervosismo rischia di esplodere in particolare sulla vicenda MES, tutt'altro che risolta, ma in fondo anche sul lato del centrodestra eppure su questo domani sulla verità ci saranno approfondimenti che mi permetto di raccomandarvi, le cose non stanno nel modo così idilliaco come le conferenze stampa congiunte fanno immaginare. Già questa mattina intervenendo in collegamento con i suoi gruppi parlamentari, il leader di Forza Italia ha detto ma noi comunque votiamo a favore, questo ha anticipato, leghe Fratelli d'Italia, la cosa è uscita sulle agenzie e a questo punto uno che vuole fare una lettura pacifista diceva ha semplicemente anticipato quello che poi sarebbe stato chiaro anche per Salvini e Meloni, uno che vuole fare una lettura più iniziosa e qui a questo punto Salvini e Meloni si sono trovati davanti al bivio se certificare la deflagrazione del centrodestra e per così dire regalare già Forza Italia alla maggioranza o invece fare un esercizio di nervisaldi e di pazienza e provare ancora a tenere insieme la coalizione. Ciascuno valuti quale delle due spiegazioni è più convincente e anche qui però onestà intellettuale impone di dire che la vicenda del MES rischia di proporre anche a destra un nuovo rischio di sfaldamento esattamente come nella maggioranza ci sono i favorevoli e i contrari e pure nell'opposizione ci sono i favorevoli e i contrari riusciranno anche la prossima volta a mantenere un'unità di facciata o di sostanza a seconda del vostro grado di ottimismo nel valutare tutte queste vicende. Ecco domani dunque sarà una giornata in cui l'interpretazione politica sarà particolarmente significativa. Invece ancora grandi ombre nel senso che non c'è chiarezza sulle misure che il governo dovrebbe adottare nel prossimo dpcm quello che realisticamente sarà varato attorno al 3-4 dicembre. Gli spostamenti saranno possibili? Sarà mantenuta una barriera tra regione e regione in particolare per quelle arancioni e rosse? Sarà mantenuta questa tripartizione giallo-arancione rosso? Ci sarà una diversa organizzazione? Le scuole effettivamente saranno riaperte? Le regole dello shopping e in generale per i negozi e le altre attività quali saranno? Non si capisce bene. Come pure non si capisce bene la situazione relativa ai vaccini. Sia il punto sollevato a me pare molto meritoriamente da diverso tempo dalla verità e cioè chiarezza sulle intese europee, chiarezza anche sul rischio. Ne parlava oggi il direttore Belpietro di una specie di seconda vaccinazione, di un richiamo nel caso in cui la prima vaccinazione non si rivelasse efficace. Sono tutte cose che anche chi è pro vaccini, proscienza, pro medicina diciamo ha diritto di chiedere e ha diritto di sapere prima di farsi inoculare qualcosa. Così come anche c'è buio sull'altro aspetto, quello organizzativo relativo ai vaccini, cioè quando saranno disponibili le dosi, intanto che progressione ci sarà nella disponibilità e ancora che tipo di organizzazione sarà messa in campo per raggiungere i più anziani e i più fragili, le forze dell'ordine, i medici, gli infermieri, il personale paramedico e poi tutti gli altri. Insomma, una vaccinazione di 30 milioni italiani, quanto tempo ci vorrà? Da questo punto di vista io da giorni sottolineo una dichiarazione a suo modo intellettualmente onesta del viceministro della salute Sileri, un grillino ragionevole, il quale a maggior ragione, constatando il disastro già della vaccinazione ordinaria e anti-influenzale, ha dovuto ammettere che se noi puntiamo a vaccinare anti-covid 30 milioni italiani bisognerà arrivare fino all'estate o addirittura dopo l'estate. Allora, provate a traslare questo problemone organizzativo sul versante economico e la domanda sorge spontanea. Che facciamo? Andiamo avanti per altri sei mesi, sette mesi, otto mesi con le zone gialle, le zone rosse, gli stop and go, i negozi mezzi aperti, mezzi chiusi? È evidente che a questo punto, altro che scostamento di bilancio da otto miliardi, altro che i pannicelli caldi di conte o i tre, i quattro, i cinquemila euro che verranno da un'azienda, è semplicemente folle pensare che questi piccoli cerotti possano essere efficaci davanti a ferite che saranno enormi e sanguinanti. Dinanzi a tutto questo i dati sanitari sono oggi in qualche misura interessanti e incoraggianti. Allora, i nuovi casi sono 29.000, per i feticisti delle cifre 29.003, pari al 12,4% dei tamponi effettuati. Ieri era stato l'11,2%, ma attenzione, per tutta questa settimana si è scesi di 3-4 punti rispetto alla percentuale del 15% di positivi che c'era stata la settimana precedente. I morti sono stati indubbiamente moltissimi, 822, 100 più di ieri, ma naturalmente vale sempre il solito discorso, noi non conosciamo la situazione clinica complessiva di queste persone decedute. Attenzione però alla parte positiva dei dati di oggi, che riguarda un consistente calo dei ricoveri ordinari e addirittura per la prima volta da molto tempo, un calo, due ricoveri in meno in terapia intensiva. Quindi sostanzialmente una traiettoria, cito a memoria, sulle terapie intensive 10, 43, 9, 6, 6 e oggi addirittura meno due, dà l'idea di una, diciamo, corsa alla terapia intensiva che è stata fermata, anestetizzata. Oggi le persone in terapia intensiva sono circa 3.800. Questo dunque è il quadro, però ve lo ripetiamo ancora, è realistico immaginare che i telegiornali di questa sera e i giornali di domani si interroghino per un verso sulle nuove misure che verranno adottate, per altro verso sui giochi di politics, come va interpretata questa sorta di unanimità sullo scostamento di bilancio, c'è da credere ai violini che suonano oppure, diciamo, dietro il suono dei violini, le contraddizioni restano aperte, come io mi permetto di ritenere, sia sul versante della maggioranza, sia sul versante dell'opposizione e poi sullo sfondo la tempistica, quale sarà la tempistica di uscita tramite vaccinazione e il ricasco economico. Queste sono le questioni, ciascuno valuti se il governo Conte ha la robustezza per fare fronte al semestre che abbiamo davanti. Di questo e di molto altro si parlerà anche domani sulla verità, noi ci risentiamo domani mattina alle 7 per la segna politicamente scorrettissima, ma l'appuntamento più importante è quello in edicola per prendere la verità e, se non l'avete già fatto oggi oppure ieri, panorama che è in edicola da mercoledì. Colgo anche l'occasione, trovate tutti gli elementi anche in uno dei commenti della redazione della verità, nei commenti a questa diretta Facebook in particolare, ma anche gli amici di Twitter non avranno difficoltà a trovare il riferimento, che è ancora valida la possibilità di procurarsi un coupon e avere per 48 ore l'accesso gratuito alla verità. Accesso gratuito che vuol dire che per 48 ore hai accesso al sito della verità, laverita.info e hai soprattutto lo sfogliatore per avere il quotidiano a tua disposizione sul tuo device, sul tuo pc, sul telefonino, sull'iPad, su quello che ciascuno usa. E se questo esperimento vi avrà, come io mi auguro invogliato, ci sono poi tutte le offerte per abbonarsi a condizioni credo particolarmente vantaggiose. Allora, buona serata a tutti e a domattina.